Benvenuti al canale, io sono Frank Mazzoni in compagnia di E.R.S. Siamo qui per fare una The Flores Love Challenge, però a modo nostro, perché guardate, ci sarà un percorso da fare, chi ci mette meno tempo, chi tocca meno volte intero, ovviamente io avrò un handicap di tempo, comunque più che altro per farvi vedere l'idea che abbiamo fatto con i ciocchi di legno, non abbiamo preso gli americani, poi l'avranno anche fatto, poi dopo al limite la bruciamo, quindi è legna che usiamo, va bene, cominciamo, primo a partire direi io, E.R.S., andiamo. Ok ragazzi, il mio turno, vediamo un posto, il legno è già tra l'acqua, secca, no? Difficissimo! Stai più basso con le ginocchia? Sperma! Un punto. Possiamo fare l'oggetto? Certo, certo. Se c'è l'oggetto sì, però non da tutte le parti ci saranno oggetti. E c'è anche il problema cane ogni tanto, dà fastidio. No! Caduto! Trello su e riparti lì. Due punti. Aspettate, facciamo vedere che cosa c'è intanto qua giù. Io andrò avanti, fin laggiù. Aspetta, facciamo una panoramica veloce. Poi da là ci sarà da saltare lì, poi si andrà avanti fino laggiù, curva e è finito. Vai! Vai piano, vai piano! Devi andare piano! Sei a tre errori, dai continua. Tiro su io. L'ora a tre errori, devi andare piano. Piano, piano, con calma. Eh no, mi ricordo bene. Aspetta. Svelli, la palmosa. La più bella è quella lì, vai. Cosa fa? Cosa fa? Guarda, sei buttare senza toccare niente. Ok. Vedete come si fa male. Eccolo, eccolo, oddio. Cioè, immagino io in quella scena dopo. Per ora sei solo a tre errori, dai. Dopo ti fanno io? Certo. No, mi ripieno la crie che ho la mano più ferma. A te sembra che hai l'Alzheimer. Per ora hai tre errori. Sì, come puoi andare qua? Dai, scendiamo qui. Difficile quello, eh? Non scendiamo. Perché questa è quella che mi viene. Sì, ma non devi dormire, dai. C'è anche il passaggio là, vedete il ponticello? Cosa sta? Scusate i ceci appesi, ma è orario di farli scaldare, asciugare. Vediamo se ce la fa. Sì, io. Tre errori per adesso. Ok. Devo sfruttare? Beh, appoggia un piede intanto. Posso? Sì. Ah, è troppo lontano? Vabbè, avviciniamo. L'importante è che non l'ho fatto ancora neanche io, quindi c'è l'handicap per tutte e due. Aspetta, mettiamo l'alzi di qua. Vai. Sai che è difficile, eh? Aspetta, è proprio mettere in piedi, però va la lista. Ma come ti pare? Bastro, riparti da quello, sei caduto, ormai il punto è andato. Riparti di lì, di lì, di lì. In piedi, in piedi. In piedi? Eh, ormai hai perso il punto e non tu vale partire. Quattro errori per ora. Ci posso? Vai piano, fidati. Ho capito quattro errori per ora. Che domani. Bravo, Alice. Non prendere velocità che è la cosa peggiore, eh? No, 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 no. Attenzione, il peso. Bravo. Bravo, sta prendendo velocità, mi sembra. Eccola. Cinque. Sette. Sette. Ok, questo l'ha inventato lui, il ponticello. Anche lui. Aspetta, mi metto a frontare. Ottimo. Dai, cinque errori in basso non è male. Io guarda che tre o quattro li faccio tutti, insomma. Sono più peso di te. Oh la la. Bellissima. In piedi, bellissima. Che fuzzo di merda. Dai, continua. Sei a sei. Che fuzzo. Sei, continua. Bellissima. E qui dovete sapere, ragazzi, che c'è un po' di odori strani. Guardate qua. Questa acqua strana. Vai. Questa acqua strana. È malevole. Sette. Sette. Sei? Forse chiudo a sei? Sei. Sei. Perfetto. Dovevi dare... Ritorna qui. Devi fare così. Teng. No. Eh sì, se no non è valido. Ok. Allora sei errori per te? Sì. Ok, tocca a Frank. E anche sei merda addosso. Eh sì, perché è un po' sporco. Sì. Frank? Sì. Sì. Vai a check Frank. Sì. Sì. Aspetta un'ultima. Sì. Sì. Non so come si riprende. Eccolo. Sì. Slittino eh. Sì. 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 Tipo ora che cadi. Sì. 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 Siamo a un video a Rylentine. Grazie adesso mi sedo anche qua. Sì. Questo è il percorso che Frank dovrà affrontare. aspetta 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 peggio il sole vai ok adesso si è buttato qui io invece qua sono tutto sporco di merda lo so lo so ma tanto su pezzo lo dai mi ha fatto il zoom aiuto abbiamo anche un'immigrata eccola qua che schifo ma qua io prima si dove qua io prima guarda che bella questa acqua la pulita come faccio se vede mai la scelta se ci riesci oh 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 qui qui no due due si completi con sei mamma mia no 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 questa era la nostra oh e da freck pazzo e li ha squadrono 08 dei 4 da freck pazzo e li ha squadrono 08 è tutto ci vediamo alla prossima del from Islam del from? del from si signori è tutto da in mano a dentro passo e chiudo la mano a dentro si fatemi bene passo e chiudo shhh shhh